Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo mukbang arancini, tempo dietro vi avevo portato un altro episodio sempre con gli arancini come protagonisti Vi avevo chiesto, non mi ricordo quanti mila like, per ordinare tutti gli arancini presenti in menù, ma non ce l'abbiamo fatta Io vi do un'altra chance, stavolta ho scelto sia quelli che più mi piacciono sia altri gusti, così intanto piano piano mi inizio a portare avanti Naturalmente non sono tutti per me, però questa è la miniatura, quindi adesso andrò a prelevare la parte di Christian, andrò a togliere quelli che vanno messi da parte E rimarrò davanti solo con i miei, almeno anche Christian nel mentre può mangiare i suoi Mi dispiace per chi non ama i guanti, però ragazzi sarei impazzita nell'avere tutte le mani unte con il pangrattato che rimane attaccato Il tagliare come vedete è stato decimato, naturalmente io mangerò quello che riesco, anche perché è tantissima roba nonostante per voi visivamente sembri poca Oltretutto vi ricordo che sto cercando di perdere peso nonostante tre contenuti a settimana inerenti al cibo Ecco perché come vi dicevo nello scorso mukbang ho iniziato ad allenarmi seriamente Dovevo portarvi quattro gusti differenti oggi, il problema è che a me sembrano uguali questo e questo Quindi credo che il ragazzo si sia sbagliato Io comunque avevo chiesto quello al burro, guardate quanto unto c'è mamma mia ragazzi Quello classico a ragù che mi fa impazzire, mio preferito in assoluto Quello agli spinaci e quello con la norma, però io qui di norma non ne vedo Suppongo siano tutti al burro quelli che ci sono stati dati Inizierei con questo appunto al burro L'aspetto non sembra male, speriamo però che sia buono È un po' gommosino, non so se è perché sia passato troppo tempo da quando li abbiamo presi Però li ho anche scaldati quindi boh Non mi fa impazzire se devo essere onesta Lo trovo abbastanza neutro Posso dirvi che secondo me questo non è neanche al burro Anche perché dove dovrebbe essere il burro? Siciliani venitemi in soccorso e fatemi sapere come sono fatte le arancine al burro Quindi per arancine al burro si intende con la besciamella, prosciutto e piselli Io mi aspettavo tipo burro e parmigiano per farvi capire Sicuramente mangiato appena fatto È tutta un'altra cosa Però trovo che anche il riso infatti è un po' scotto Forse è proprio il riso che mi sta facendo storcere il naso Oltre la panatura che non risulta più crocchiante ma quasi plasticosa Comunque sono molto felice del mio percorso di allenamento Non so se il mese prossimo tradire Paolo per quanto riguarda la nutrizione Non credo di essere pronta a questo però È un mattone Come vi dicevo nello scorso mukbang mi sto facendo seguire da Memli E con mio gran stupore quando le ho dovuto mandare il check del peso Non mi aspettavo di pesare praticamente quanto due mesi fa Tre atti meno addirittura Pensavo di aver preso qualcosina Tant'è che mentre salivo sulla bilancia La mia unica speranza era di pesare meno di 68, 69 non ricordo E invece sto a 65,7 Non vi dico la gioia quando ho abbassato gli occhi Ero già pronta a disperarmi, a rovinarmi la giornata E invece no Questo è l'arancino burro e spinaci Secondo me questo sarà una vera goduria Potrebbe benissimo prendere il secondo posto tra i miei preferiti Ovviamente dopo quello classico Buono C'è molto meno riso rispetto a quello precedente Così un po' come quello al ragù È quasi tutta farcitura Il che non mi dispiace affatto Anche in questo caso Mi aspettavo un sapore più deciso Tra burro e parmigiano Invece rimane tutto un po' piattino Qualcuno di voi si ricorda quanto pagavo gli arancini da Mizzica? Perché sono venuti 3 euro l'uno Ma io mi ricordavo costassero 3,50 euro Quindi non vorrei che ci sia stata una diminuzione di prezzo E di conseguenza anche di qualità La prova del 9 ce l'avremo con quello al ragù Per carità non sono pessimi Però sinceramente se devo andare a mangiare una quantità di unto del genere Per questo sapore in bocca la prossima volta evito Perché dovrei tradire Paolo? Sentiamo Perché Memli dà anche la possibilità di fare sia la scheda con lei che la nutrizione Naturalmente per quanto riguarda la nutrizione Collabora con una nutrizionista altrettanto amante della palestra Quindi il dilemma è Continuo a seguire l'alimentazione di Paolo Magari tornandoci un'altra volta E mostrandogli la mia scheda di allenamento E vediamo se cambia qualcosa Oppure mi affido direttamente Ad una nutrizionista Alla quale viene mandata la mia scheda E quindi mi crea un'alimentazione Su quella Non lo so Sono un po' indecisa sinceramente Scusate non vi stavo mostrando Quello al ragù Wow Speriamo sia buono Vi prego Dove c'è il sugo È tutto più buono Wow Anche se secondo me È tutto riso Nascondiamo questo pezzetto qui dietro Le cose sono due O il cuoco bravo è andato in vacanza Oppure la qualità è calata drasticamente O semplicemente È trascorso troppo tempo Da quando li ho ordinati A quando ho deciso di mangiarli Come vedete ho tolto i guanti Mi dispiace ragazzi Ma io oltre questo Non riesco ad andare Una volta mi sarei sforzata Almeno di finire Questa metà Perché altrimenti Mi sembrava brutto Però non trovo Abbia senso Fare questo tipo di ragionamenti Devo assecondare Il mio stomaco E il mio corpo Fortunatamente Sto imparando sempre di più A capire Quando mi sento sazia Senza Oltrepassare Quella soia Perché in passato La oltrepassavo Quindi lo stomaco Mano mano Continuava ad allargarsi Penso che dopo questo mukbang Tornerò con Dei mukbang Un po' più sani O almeno vorrei alternare Una settimana Mukbang sano Una settimana Mukbang un po' più divertente Se vogliamo chiamare Divertente Questa roba Oggi sono rimasta Davvero tanto delusa Non vedevo l'ora Arrivasse questo momento Per mangiare gli arancini Invece Chi mi conosce bene Sa che ci sono due cose Che mi fanno impazzire Buttare i soldi Per mangiare male Ops Non volevo lasciare Questo dito alzato Oppure Mangiare male Quindi ingurgitare Del cibo Che non mi ha soddisfatta Particolarmente Anche perché sto sgarrando Quindi vorrei farlo Con qualcosa Che mi appaghi totalmente Tipo il gelatino Di Stefano Ferrara Avete visto il video Gelaterie aristocratiche Di Roma Ho trovato La mia nuova gelateria Preferita Di Roma Andate a recuperare Il video Se ve lo foste persi In questo momento Sto sognando Una bella insalatiera Piena di Insalata di cetrioli Quanto mi piace Mangiare così Non vorrei Ricommettere l'errore Di portarvi Solo questo genere Di contenuti Perché magari Possono attirare Qualche clic in più Sinceramente Non mi interessa Veramente A me interessa Essere felice Mentre mangio Dopo questa mangiata Mi sento che non è stato così Quindi questo Mi dà la conferma Di quello che già stavo pensando Ovvero che Ho bisogno Di mangiare sano E di condividere con voi Delle belle ricette sane Così da farvi venire voglia Non solo di schifezze Ma anche Di piatti Che potete mangiare Tranquillamente All'interno Della vostra alimentazione Per questo video è tutto Io spero vi sia piaciuto Se così è stato Mi raccomando Lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Per non perdervi Tutti i prossimi video Che usciranno Come sempre Vi mando un bacione E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao